Oggi facciamo un primo piatto freddo, semplice, veloce e molto schizioso. Per prima cosa lessa il riso basmati e aromatizzalo con il curry. Puoi farlo in modo tradizionale oppure come faccio io utilizzando un cuoci riso da microonde. Io preferisco questo sistema perché è più veloce, più economico e permette di sporcare meno pentole. Io metto il riso nei cuoci riso, aggiungo un cucchiaio di curry, un po' di sale, l'acqua e cucino tutto in microonde per 12 minuti. Una volta cotto il riso lascialo raffreddare. Nel frattempo ungi una padella con un filo d'olio e aggiungi i gamberi ancora surgelati. Cuoci a fiamma viva per qualche minuto. Fai evaporare gran parte dell'acqua che rilasciano i gamberi, ma non esagerare con la cottura perché altrimenti diventano gommosi. Unisci i gamberi al riso e mescola. Aggiungi un po' di buccia di limone grattugiata, tagli il resto del limone a spicchi e aggiungilo al riso. Tieni il riso basmati con gamberi in frigorifero fino al momento del consumo. Buon appetito!